Il Red Razzionem ieri pomeriggio negli spogliatoi dello Stadio Romagnoli, inevitabile dopo il 3-2 di Monte Giorgio con i padroni di casa capaci di recuperare il doppio vantaggio dei lupi. Bagatti ha guardato negli occhi suoi giocatori deluso dall'atteggiamento di una squadra che non sa più vincere. Delusioni giunte dopo che il presidente Nicola Circelli ha annunciato che il club puntava con decisione ai play-off. Evidentemente Giacobbe e Soci hanno avvertito la pressione del risultato da raggiungere a tutti i costi. Qualcosa insomma si è rotto, oppure versione più accreditata, è solo una casualità. In fondo pensare alla fase post-season con una squadra in salute reduce da 13 risultati utili consecutivi era lecito e invece l'ambizione del club si è trasformata in un boomerang. Forse c'entra un calo fisico e mentale perché dopo tanto rincorrere si paga sempre un prezzo alto. Forse c'entra anche un pizzico di inevitabile appagamento scattato nella testa della squadra e dello staff. Insomma una serie di fattori avranno inciso sul rendimento delle ultime uscite non in linea con le ambizioni del club. Che tuttavia resta fiducioso il presidente Circelli getta acqua sul fuoco condannati dagli episodi. Ha spiegato dopo la seduta di allenamento di ieri pomeriggio nessuno è sotto accusa.